Crutch, bind, set. Benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Oggi parliamo di Gonzalo Quesada. Sì, parliamo del nuovo allenatore della nazionale italiana di rugby. Dopo aver già dato ampiamente opinione su un cambio che molti hanno ritenuto inopportuno, soprattutto per le tempistiche con cui è stato dato l'addio a Kieran Crowley. Ne parleremo ancora, ne parleremo magari martedì nella live con Ottavio, ma poi ne avremo di tempo per parlarne perché insomma c'è una Coppa del Mondo che ci aspetta. Però, perché no, iniziare a dare un'occhiata a chi sarà il nuovo allenatore della nazionale italiana a partire da gennaio, ossia Gonzalo Quesada. Il Queso Formaggio, come viene chiamato in spagnolo, prendendolo ovviamente dal cognome, oppure Gonza o Spidi González, come veniva chiamato nella Coppa del Mondo del 99 per la velocità con cui andava alla piazzola e batteva i calci piazzati. Tra l'altro con una precisione incredibile. E sì, perché facciamo un po' il profilo del nuovo coach della nazionale italiana. Allora, Gonzalo Quesada è innanzitutto un ottimo ex giocatore argentino. 36 caps con i Pumas, apertura, due Coppe del Mondo, tra cui quella in cui brilla di più che sicuramente quella del 99, dove fu il massimo marcatore del torneo con 102 punti e un cecchino terribile dalla piazzola con 31 calci realizzati in quel torneo che ancora oggi è il record per una Coppa del Mondo. Ma nel 2007, dopo aver passato sette anni in Francia da giocatore professionista, tra Narbonne, Bézier, Stade Francais, Pau e Tolone, col Tolone in Pro 2-2, torna al suo club di formazione Hindu, uno dei club più importanti di Buenos Aires, la capitale dell'Argentina per chiudere la carriera nella maniera più giusta, come lo fanno molti giocatori argentini, non dimenticando la prima maglia, il club formativo. E poi, chiuso il capitolo di giocatore, inizia ad allenare. Ancora oggi, Gonzalo Quesada è da considerarsi un allenatore giovane, soprattutto per il livello internazionale a cui adesso con l'Italia accederà. Quesada è del 74, tra i più giovani, vista l'esperienza che ha già acquisito, sia da head coach che da assistente. Allora, inizia la sua traiettoria appunto da assistente e, attenzione, è stato specialista dei calci dal 2008 al 2011 per la Francia di Livremont, lavorando insieme anche al mitico Emile Ntamac. Passa poi al Racing, dove prima da allenatore del gioco al piede e poi fa il passo da head coach dopo l'esonero di Berbisier, ex allenatore anche lui della nazionale italiana. Corsi e ricorsi storici ce ne saranno vari nella traiettoria di Quesada. Per esempio, è abbastanza divertente pensare che venne sostituito proprio al tempo al Racing da Traverse, che lo ha battuto quest'anno in top 14 con il Racing, ma che è stato a sua volta probabilmente superato nella corsa proprio alla panchina azzurra. Almeno questo da quello che ci viene dalle voci di corridoio, le famose voci di corridoio. Da lì il primo passaggio all'altra sponda di Parigi con lo Stade Francais di Sergio Paris, dove nel 2015 vince il titolo. Però ragazzi, l'ambiente parigino non è dei più semplici, come ricorderà anche ultimamente proprio lo stesso che Sada, dicendo, credo di non essere stato trattato come mi sarei meritato. Per ben due volte nella sua traiettoria allo Stade deve abbandonare e è così, non riuscendo a confermare i risultati, viene esonerato nel giugno del 2017. 2017 è il momento di un altro grande passo nella carriera di Gonzalo Quesada e il momento di tornare in Argentina. Prima coprendo il doppio ruolo di head coach di Jaguares e assistente dei Pumas. E poi per decisione mutua assieme all'Edesma solo con Jaguares. L'Edesma si sarebbe occupato dei Pumas, prima di passare il testimone a Macolceica, e Gonzalo Quesada si sarebbe occupato del progetto Jaguares. Bene, guida la franchigia argentina ha una cavalcata incredibile in Super Rugby, fino a quella pazzesca finale terza con i Crusaders. Poi arriva il Covid. Gli argentini, giocatori e tecnici, devono trovarsi un'altra soluzione e allora il Chesso, bene, torna nella sua Francia, torna a Parigi, in uno Stade Francais, molto ambizioso, con il budget tra i più importanti del Top 14, ma è anche una sedia che scotta, non facile da gestire, soprattutto per quello che avviene nei corridoi societari. In tre anni i risultati sono discreti, non all'altezza del suo precedente passaggio allo Stade dove aveva vinto il Buclé du Brenus, ma si qualifica due volte su tre per i play-off e due volte su tre viene eliminato di nuovo dagli eterni rivali del Racing ai quarti, il derby di Parigi. Mentre nella stagione di mezzo non riesce a centrare la qualificazione alla possiso. Gonzalo Chessada, la settimana scorsa, viene annunciato come il nuovo allenatore della nazionale italiana. Qualcuno a partire da gennaio dell'anno prossimo, quindi dopo la Coppa del Mondo, da gennaio 2024. Qualcuno prende un po' troppo alla lettera una dichiarazione nella quale lui si diceva contento di poter abbassare un attimo lo stress del lavoro nel club, però dovete capire che il lavoro allo Stade Francais e precedente anche in Jaguarez è un lavoro che ti porta a essere estremamente sotto pressione e io credo che sarà tutt'altro che una vacanza per Gonzalo Chessada. Credo che il Chesso si prenderà il lavoro alla panchina dell'Italia non seriamente, di più, anche perché per un allenatore giovane come lui potrebbe essere poi magari il trampolino per pensare addirittura più in alto e ovviamente viene in mente Pumas. Pensate che mentre noi ci lamentiamo in questi giorni dell'addio che è stato dato in maniera forse un po' precipitata a Kieran Crowley, invece se andate sui Twitter argentini tutti dicono l'Italia ha fatto un grande grandissimo acquisto perché non ce lo siamo tenuti in casa. E allora proviamo a vedere che cosa può apportare all'Italia Chessada. Chessada, a differenza di Crowley, è un allenatore, come abbiamo appena detto, abituato a lavorare sotto estrema pressione. Già solo l'aver giocato e allenato in Francia è una garanzia da questo punto di vista. Se poi andiamo nello specifico, sia lo STAD che la UAR, la Federazione Argentina, sono due ambientini dove non è che puoi permetterti troppo di rilassarti. In tanti ne hanno pagato il prezzo, in Argentina ad esempio le Desma. Da questo punto di vista sono convinto che sarà sicuramente più in linea con le richieste di un Marzio Innocenti che ha progetti molto ambiziosi per l'Italia. Per tornare sulla comparazione con Kieran Crowley, Kieran era a sua volta più un giardiniere paziente, mi viene, no? Profondamente questo sì convinto delle sue tecniche di coltivazione, no? Di come voleva fare crescere le sue piante, però sapeva che aveva bisogno di pazienza. E sulle sue tecniche, sui suoi metodi, forse un po' poco flessibile e che non amava troppo, come ha detto anche nelle ultime uscite appunto, essere messo sotto pressione nel suo lavoro. Che Sada da questo punto di vista, diciamo che è vaccinato. Sarà chiaro che gli obiettivi verranno anche valutati in risultati e io mi aspetto che dopo il cui procuo avvenuto con Kieran Crowley, Marzio Innocenti abbia parlato in maniera chiara su quali sono gli obiettivi che richiede ed esige da Gonzalo Chessada. Attenzione però, dall'altro lato Chessada non è solamente un animale da gara e un allenatore appunto che dà il meglio sotto pressione. Gonzalo Chessada sa anche far crescere i giocatori e da questo punto di vista la ritengo una scelta molto interessante. Bisognerà capire se assieme magari a Germán Fernández la FIR si aprirà a ricalcare una costruzione sul modello argentino, come tante volte si è detto che l'Italia avrebbe dovuto in qualche maniera imitare. Bene, quel modello argentino prese proprio il là da un viaggio in Nuova Zelanda del gruppo di Urcad e Fernández, al quale poi si è giunse appunto Chessada, e passò per moltissime influenze dalla Nuova Zelanda, Wayne Smith, Graham Henry, al Sudafrica, col quale è da sempre la UAR mantiene rapporti strettissimi, all'ultimo passaggio appunto con Michael Sheikhan. Ma che cos'è questo modello argentino? Che non è detto che venga replicato in Italia. Però proviamo a capirlo un po'. Bene, il modello argentino si potrebbe riassumere in pochi punti. Uno, condivisione del know-how e individuazione del talento. La UAR aveva deciso di coinvolgere ogni singolo club di un territorio, tra l'altro enorme, nel processo di costruzione. Difatti, se andate su YouTube, troverete, basta cercare Chessada, Herman Fernandez, Urcade, troverete su YouTube moltissimi workshop anche proprio di Chessada e di tutto quel gruppo di lavoro. Si ricavano fino agli angoli più sperduti del paese, fino in Patagonia, o fisicamente o in maniera digitale durante il Covid, per capire prima di tutto e poi per condividere il loro lavoro. Un po', ragazzi, come sta facendo oggi anche la Francia. Ecco, un procedimento, un processo a cui l'Italia forse è poco abituata, che però potrebbe cambiare radicalmente le cose. Ovviamente questo processo ha favorito un'individuazione capillare del talento e ha accompagnato tutta la generazione che oggi quasi non fa più notizia quando batte gli All Blacks e gli Springboks alla maturazione alla quale sono arrivati oggi. Il secondo punto del modello argentino è allora appunto una volta che abbiamo condiviso il know-how e abbiamo individuato il talento, il lavoro con questo talento. Un lavoro capillare sulle skill. Qui il lavoro proprio di Fernandez, che è stato l'allenatore, lo skill coach dei Pumas, fu importantissimo. Manca ovviamente il contributo di geniacci come Graham e Harry in qualità di consulente. E poi il campo. Che cosa prevedeva quell'argentina lì? Quell'argentina che ha messo le fondamenta dei Pumas di oggi. Bene, si riniziò con Eluevo Ocad da strutture semplici, che non potevano prescindere da tre cose. Uno, l'esecuzione perfetta del gesto tecnico. Due, il concetto di duello dell'uno contro uno, di ganare la carriera, di vincere la corsa, di vincere il duello individuale. Ogni volta che il gioco si apriva bisognava arrivare prima del proprio avversario. e poi la lotta, il duello, l'uscita dal frontale, la sfida prima nell'uno contro uno. E poi tre, strutture multi-opzionali, strutture che permettano di avere molte risorse, però semplici, lasciando lo spazio alla creazione individuale dei protagonisti. Sembra semplice, fondamentalmente lo è, ma i risultati sono stati veramente impressionanti. Chesada parte da qui. Chesada parte da qui. Bisogna capire che questo è il suo background, però poi ovviamente ci aggiunge del suo. Che cosa aggiunge? Allora, innanzitutto ricordiamoci quello che abbiamo detto. Chesada inizia la sua carriera di allenatore come allenatore delle skill al piede. E allora va da sé che dà un'importanza sicuramente maggiore a quella che ha dato Kieran Crowley fino adesso al gioco al piede. E attenzione, particolare e non trascurabile, il suo background di allenatore specifico del gioco al piede potrebbe essere particolarmente importante per l'Italia. Il suo lavoro a fianco magari a specialisti come Corrado Pilat potrebbe portare dei miglioramenti importantissimi su uno dei punti, diciamo, fragili, storici, quasi endemici del gioco italiano. Ma soprattutto il gioco di Chesada parte dalla costruzione di un'identità di squadra. È molto importante il lavoro parallelo che lui ha fatto in Francia sul coaching e sulla psicologia sia individuale che collettiva. Quindi anche un lavoro molto collaborativo con la squadra non solo di giocatori ma anche con lo staff tecnico. Costruzione di identità che poi in campo si traduce soprattutto in quello che c'è di più collettivo nel rugby, ossia la difesa. Difesa concepita come lavoro collettivo appunto per eccellenza ma attenzione con responsabilità individuali ben definite. La difesa degli Jaguares partiva ad esempio da un sistema difensivo che si racchiude con una parola molto semplice, un acronimo che era ITE, ITE, dove I sta per interno, T sta per tacleador, placatore e sta per esterno. Ossia una conoscenza del proprio ruolo in situazioni difensive a partire da chi sta vicino al placatore fino poi ovviamente allargarla tutta la linea difensiva e sapere che cosa fare ogni volta nel proprio ruolo. Quindi sicuramente con l'Italia non salò che Sada partirà dalla difesa. Che cosa aspettarsi allora con l'Italia al di là dello stile di gioco? Io qui l'ho generalizzato molto. Ci sarà in settimana poi un video di otto che sono sicuro che entrerà ancora molto più nello specifico magari nelle giocate, nel sistema facendo magari anche vedere delle immagini. Però vi volevo dare intanto una prima infarinatura. E che cosa aspettarsi con l'Italia? Allora molto brevemente se ci pensiamo con le sue specificità il progetto Pumas è stata la naturale maturazione di un'architettura neozelandese, di un gioco che partiva da delle idee neozelandesi. E quindi paradossalmente visto che il gioco di Kieran Crowley per molte cose assomiglia a alcune specificità della Nuova Zelanda e non potrebbe essere diversamente, paradossalmente se io dovessi pensare a un allenatore per l'Italia per il post Crowley non riesco a pensare a una scelta più adatta a quella di Chessano. Detto tutto ciò, ovvio che dispiace per Crowley, lo ripetiamo, la sensazione che non gli abbiano lasciato finire il lavoro è forte, però è anche vero che sto maturando un'idea che magari poi martedì proverò a esprimere meglio, che a volte i cambiamenti non sempre vanno fatti quando le cose vanno male. Anzi, a volte è abbastanza lungimirante. Non so se lo specifico caso, ma vedere il pericolo che si avvicina, vedere l'onda e cambiare, spostarsi prima di essere appunto travolti dall'onda. A volte è molto meglio non aspettare di dover annaspare per uscire dalle sabbie mobili, ma reagire prima, reagire quando le cose vanno ancora bene. Ne parleremo magari poi martedì aprendo una discussione. Però indipendentemente dal fatto se fosse stato o no giusto fare adesso il cambio di allenatore, io sono molto ma molto ma molto fiducioso che proprio Gonzalo Quesada possa essere il passo giusto che faccia maturare un gioco interessantissimo impostato da Kieran Crowley, molto funzionale allo sviluppo di un gruppo giovane, ma pur sempre un gioco embrionale con qualche punto debole che gli avversari stavano imparando anche a identificare. Inoltre c'è un aspetto che mi fa essere ottimista sulla nomina di Gonzalo Quesada. Bene, il Queso potrebbe accelerare un lavoro di sinergia con le franchigie, un po' come si fece a suo tempo con Jaguar e Spumas. Io credo e sono convinto che lavorando così tanto Quesada sul concetto di identità non possa non chiedere agli allenatori delle franchigie in qualche maniera di partire dalla stessa idea, partire dallo stesso principio di gioco o quantomeno trovare dei punti comuni, cosa che da quanto trappela è stata fatta molto meno fino ad adesso dall'attuale coach. Ragazzi, spero, spero di avervi dato come sempre degli spunti di riflessione, spero di avervi dato un profilo, seppur appunto molto poco approfondito, ripeto, magari in settimana otto approfondirà di più e poi impareremo a conoscerlo passo passo il nostro Gonzalo Quesada, però spero di avervi fatto capire un po' di più il personaggio. Ditemi, come sempre, che cosa ne pensate nei commenti. Se potete, aiutate il canale, stiamo crescendo, andiamo verso un mondiale dove vogliamo fare veramente tante cose tutti assieme e quindi che cosa potete fare? Ve lo ripeto, se per caso qualcuno si è dimenticato, uno, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale. Due, se siete già iscritti e conoscete qualcuno che è appassionato di rugby e potrebbe trarre beneficio da questi contenuti, invitatelo, quindi magari condividete i contenuti sui vostri social, attivate la campanella, mettete un like, mettete un commento e poi se proprio volete fare ancora di più potete ovviamente o fare una donazione al link che trovate sotto o entrare nella community Patreon. Per il resto io vi auguro una buonissima giornata, dipende da quando guardate il video, serata o mattinata, vi mando il solito grande, grandissimo bacio e ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video. Ciao!